musica 3, 2, 1, go! buongiorno ragazzi oggi siamo ritornate qui con un nuovissimo video questo video si tratta di un video molto molto bello perché oggi faremo il video in cui racchiudiamo in tanti piccoli pezzi di video un po' i video più belli che per noi significano tanto allora ragazzi in questo anno 2017 abbiamo caricato 320 video circa 320 ragazzi ovviamente non ve li abbiamo messi tutti in un unico video perché sono veramente tantissimi e quindi questo video è già venuto molto corposo quindi più video ci stanno più corposo viene il video e quindi meglio di no però se comunque volete andare a vedere i video, tutti gli altri video o comunque tutto il video in cui vi facciamo vedere questi pezzetti basta che andate sul nostro canale su video o playlist premete e vi escono tutti i video e potete andare anche nell'anno 2016 dove noi siamo piccine picciò e infatti io quando guardo quei video sembro che c'è il video ma io conosco quei video e vabbè ragazzi quest'anno ci sono state veramente tantissime esperienze tantissime emozioni e anche una bella emozione che abbiamo raggiunto ovvero i 100.000 iscritti e ecco anche la nostra tarda grazie a tutti voi grazie a tutti voi grazie alla Magic Family Magic Magic Family e comunque quando eravamo piccine picciotte ragazzi poi a parte tutte queste emozioni comunque veramente è stato un anno pazzesco divertentissimo abbiamo fatto un sacco di cose insieme e però ragazzi 320 video non sono 320 video che prendi il cellulare fai il video e lo carichi su YouTube no perché abbiamo fatto veramente tanti video con questa telecamera che ci ha sopportato per un bel po' di tempo e spero ci supporti anche più in là e una volta presi i video e portarli sul computer poi editarli caricarli su YouTube e quindi è stato veramente un sacco però veramente molto 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 bello e pensare anche a tutte le idee tutte le tendenze e per fortuna c'eravate anche voi che ci sostenevate e a volte ci davate anche dei consigli quindi veramente un anno favoloso ragazzi allora abbiamo raggiunto in quest'anno veramente cifre molto molto alte e wow ovvero su YouTube 140.000 iscritti 140.000 magichini e magichini che ci seguono e 50 milioni di visualizzazioni 50 milioni oddio ma solo ringraziamo mila milioni di miliardi di volte e soprattutto alla magic family poi 56 mila magichini e magichini che ci seguono su Instagram Giulia come ci chiamiamo su Instagram marghe Giulia kawaii kawaii 3-basso official e su musical.ly 91 mila magichini e magichini che ci seguono ragazzi quasi vicino alla corona speriamo di farcela e poi vi faremo anche un video ovviamente Giulia come ci chiamiamo sul musical.ly nei migliori dei modi e la cosa più bella è stato ad andare a Milano per registrare 25 settimane il pacchetto con Disney mandiamo un bacione enorme a Disney e a tutte le persone che stavano con noi in quei tre giorni in quei momenti poi ora ragazzi è finito il 2017 l'abbiamo concluso veramente benissimo e noi siamo carissime e prontissime per affrontare questo anno 2018 spero che non siate anche voi per sostenersi e per sopportarci e per spaccare tutto quindi ragazzi allora ora abbiamo parlato un po' di tutto però vi vogliamo fare un problemino matematico anche se sul canale di Marghe e Giulia ci sono problemini matematici matematici allora io Marghe più Giulia più magichine e magichini formiamo la Magic Family cioè amore purio un bacione qua sedetevi comodi e prendetevi qualcosa da mangiare patatine quello che volete e godetevi il video ciao 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 Musica Ok ragazzi, tutti buoni Allora, questo è dei buchi bianco solito E questo rosa è dei bambini Oddio, io mi sono Ok ragazzi Deve tagliarsi i capelli Poi non se li deve tagliare Poi se devi fare lo shop Eh vabbè, like, shop, shop Via tu No Cattiva Vabbè, alcune volte verrà premia Sarebbe da me con le quarti Ok ragazzi Mi sto già incominciando Da fare i tagliati Mi sto facendo pezionare i capelli Quindi taglia Wow, come son lissimi Siediti un poco, sediti un poco Vediamo un po', siediti Ok ragazzi, questi sono i miei capelli Ragazzi, io sto per tagliarmi i capelli Secondo voi come me li devo fare? Ho paura O a zero O lungo e corto tempo Non lo so Taglia, taglia, taglia Tanti i capelli Taglia Che coraggio Ok ragazzi Mi sono tagliati i capelli Me li sono asciugati Cioè, mia zia me li ha asciugati Tutto quanto Mi piacciono davvero tanto Mi ripeto Caro papà, nel giorno della tua festa Voglio dirti cosa ho nella testa Cosa c'è nel mio cuore Quando mi guardi con amore Ogni giorno mi abbraccia e mi proteggi Con premura Mi aiuti e mi festeggi Sei paziente, dolce e generoso Mi fai sentire forte e coraggiosa Quando ero piccola Mi facevi volare Oggi di paure mi fai superare Insieme a te mi sento sicura Caro papà Tu sei il mio tesoro Ti voglio bene Tieni la mente Stringimi al cuore E colcolami teneramente Grazie Grazie Le abbiamo detto Che non si può più recuperare la bolletta L'ho maniato, ho pagato Non hai pagato Faccio esito, va bene Non ho pagato Non va niente, arrivederci Non mi chiamo a te Vogliamo la gara Venite se faccio le muccia Ma per favore Cammini Ok, noi ci riproviamo E ora se lo diciamo Perché ragazzi E la nostra nonna Va bene, io gliela dobbiamo dire Pronto? Pronto? Chiamiamo sempre Infostrada Perché è staccato Signora? Allora dite il numero dell'operatore Il numero dell'operatore Che siamo Mark e Giulia Nonna Scele tu nonna Ragazzi da dove ho Pinocchio Giulia Giulia, che ti conosceva il mio film? Non, non posso fare Ti passano, non ce ne conosceva il film Ammaggia, ti Dopo vado a prendere anche il quale E' bello stato il tuo cuore E' visto che poi arriviamo a un milione Sì E' arrivato a un milione Eravamo piccole però E' più piccole qua Io ti parlo di sei anni Marghe, Giulia Sì, sì State facendo i compiti? Sì, abbiamo anche quasi finito Da che siete arrivate? No, guarda, era questa papà Ok, ok, ok Mi raccomando, fate presto Altrimenti non usciamo Io sto leggendo Tu Non ti raccordo papà Arena 8, giusto? Arena 8 Ovvero andiamo a rapina E' indovinato dove? Miracura Anglia Ciao Dietro leggere mamma Dietro Ciao 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 Babbo Basta Sì, ciao Sì, babbo basta Ciao Vieni Ha paura Ma sei scemo Ti fai Ha paura Ha paura Hai paura? No Ciao 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 Wow! Wow! Delizio! Wow! Carghe! Ese capucho! Wow! 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 Carghe! 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 Non ti preoccupare E la patisse Allora basta Buongiorno ragazze ragazzi Oggi siamo arrivati qui con il nuovo video Caramelle Bruna questa pizza Non vedo l'ora di mangiarmela Sì 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 Non vedo No vedo No vedo No vedo No vedo ecco la gioc... la gioc... mmmm mmmm che pepeolare mmmm no 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 le prese sempre è acido acido a me o zucchero a mela a me porfano un buff chi è stato? voglio sapere acido a me un buff il mela, la cosa, gli chiede la cosa senti come vuoi andare a prenderla non ti preoccupare, non ti ha a posto sto papà è proprio babà mamma si è fatto fregare pure un'altra cosa babà schiacciatore mascar mascar ma su adà fermà sono in tutto 45 allora vediamo cosa c'è ecco qui un biglietto un messaggio se io riuscivo mai ad aprire questa ed ecco la nostra bambolina pronta allora che si adesso facciamo una cosa bellissima diamo gli auguri a tutte le mamme del mondo un bacione a quelle la che non ci sono più e le mando una a mia mamma da lassù sì ma se no non dai a me manca un scherzo va bene ok quindi ragazzi questo era il video spero che vi è piaciuto tantissimo iscrivetevi a instagram marghe giulia su facebook marghe giulia vai vinta mamma dai per la data per la data per la data per la data quindi ragazzi questo è il video spero che vi è piaciuto a me è piaciuto tantissimo passa giulia passa giulia uno due tre prima marghe prima marghe la 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 tre pari si la siamo pari real vs gammie la cambio o non la cambio o non la cambio c'è una margherita magari la la una tre si io sono tu sei persa tu sei persa io sono brava Tè! 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 Tiena corno! Tiena corno! Ah! Lo vuoi? Tè! Non te lo so! Sì! Basta! perché era tutto e apriamo una pagina a caso la bocca sappiatelo andiamo avanti però devo segnarmela oddio è ora vabbè quando mi capiterà di nuovo segnerò allora usa questa pagina come pagina di test per penne pittura, pennarelli o articoli da disegno usiamo tutto quello che ho nel portapastelli allora usiamo tanti bei colori buongiorno ragazzi e ragazzi oggi siamo ritornati qui con un nuovo video questo video si tratta del mondo comestibile allora per lo slime comestibile ci serviranno fratti di caramelle io ho preso gli ostetti io ho i veri dell'amido di mais zucchero a velo perfettissimi noi vi mandiamo un bacione per me e ci vediamo alla prossima ciao agli altri non santo batter ti amo e' emozionata amore mi è emozionata e poi a me devi piangere di gioia di gioia piangere normale sei stata brava brava bravissime perciò si legate qua tutte le cose che dicono cattive sono tutti stupidi come sono i padre? come sono i padre? come sono? i padre? dillo tu dillo tu dillo tu visto quante persone che vi vogliono bene vai vai visto quante magichini magichini cosa sei vogliate? figlio lì fagli vedere fagli vedere come fai tu vai vai fagli vedere io ne soltanto va perci non riesco a fare ma dobbiamo sta emozionata no non ci credo complimenti siete state bravissime bravissime ma dobbiamo non ci credo è impossibile non ci credo con l'altro ciao 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 signore come state? cio mia ma ti serve per te mi chiami continuamente e poi ci rompego io e chi è? aspetro io sono Jessica oi che buo ehi si fra amare sto andando a amare ma mi devi chiamare ma mi devo passare mia sorella oi cio mia sorella e capisci che non devi chiamare più che sta cimazzare e stiamo a giocare a questo dolce e tu mi ci credo direi che è sta cimazzata da noi ma io vengo a casa tutti scherzi in due ma lo ha fatto ciao 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 bravissima 2 a 0 questo è mia mamma che è la regola di Missiotra che mi gusta ah sì ho tenuto molto gara molto gara che sei forse veniva grazie Giulia, tanti amore a te Un giorno all'improvviso sei arrivata tu, con la tua vivacità Sei una piccola monella molto più di tua sorella Ma a noi, e credo in questo caso non solo a noi, ma a migliaia di magichine che ti amano, ci piaci così Sei un uragano di gioia e amore Tu sei una bimba dolcissima, con un cuore infinito Tu sei la più piccola della famiglia Infatti, come diciamo sempre, tu sei la cucciola della nostra casa E sei il nostro piccolo grande amore L'immensità del cielo non basta per dire quanto ti amiamo Auguri alla nostra piccola principessa Giulietta Eeeeeee Eeeeeee Eeeeh 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 stavo tremando, un attimo, un attimo ragazzi non ci stanno non ci stanno non si stanno non ci hanno l'altro e noi i due bimbi ahhhh c'è una roccorata che dice vieni vieni come un s� vieni Scusse, due locali, ma che giocamai è fatta al cuore, a chi fessero tu papà tornava, ti sei proprio scegli, scherzo, papà, ti va, e abbattete loro in piedi. Scusse, Giuliano facciamo una bella cosa, facciamo scopare in locali. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Lalle, sai, questa sera mi sono sognata di giocare con delle fotine magiche. Wow, come erano fatte? Erano belle, colorate e con le ali glitterate. Wow! Wow, Giulia, guarda, ma erano le witchyland. Sì, sono bellissime. Sono proprio queste? Sì, sì. Wow, bellissime. Tire, tira, tira, tira! Ma non può... Ma non puole... Ma non può... Ma non puoi... marghe giulia sono le 7 e 30 alzate visiva scuola marghe giulia ore 7 e 30 si va a scuola sveglia marghe le 8 marghe tra un quarto dove devi entrare marghe ti porti in pigiama dai dai giulia giu l'amore è un punto d'arrivo una conquista ma non esiste prospettiva senza due punti di vista anche se fuori tutto è magnifico non lo prenderò come un rimprovero pensavo a me col mondo in mano ma senza te dov'è che vado con tutta questa voglia di brillare su in cielo e di scordarmi chi ero senza di te mi dicono non sei nessuno se poi non passi in radio in radio oggi che sei conosciuto per me se sono un estraneo sono una voce in radio pacchetto numero 25 ciao margherita oggi il sogno nel pacchetto è il tuo auguri dalla tua sorellina giulia giulia ma sei tu pacco pacco del mio natale apriamo insieme questo regalo speciale wow giulia grazie passare il natale in famiglia è il vero sogno nel pacchetto non potevo ricevere il regalo più bello buone feste a tutti auguri ciao 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 nome margherita giulia età undici anni otto anni città napoli napoli margher napoli napoli eh giuliano giuliano e non siamo a dirtelo noi ma ti portiamo quello che dicono le vostre vantichine giuliano sei la manella della famiglia ma sei allo stesso una bomba di simpatia anche in questo caso ti riportiamo quello che penso ho non mi 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 Grazie per la visione!